Ciao ragazzi, il crunch è un esercizio molto importante per la performance del nostro addome. Scopriamo insieme come eseguirlo alla perfezione. Iniziamo il crunch con la retroversione del bacino, quindi spingiamo il lombare a terra, posizioniamo mani dietro la nuca, obiettivo staccare una porzione più ampia possibile del torace da terra, espirare in fase di salita, controllare la discema.